buongiorno a tutti siamo oggi presso il nostro nuovo showroom di curno presso la concessionaria sarco lexus bergamo dove vi presentiamo la nuova realizzazione della della sede che se già adeguata a quelli che sono gli standard europei di lexus italia infatti presso la nostra sede di curno dove rappresentiamo il marchio e il brand premium lexus dal 2012 unito al brand toyota che la nostra famiglia rappresenta da lontano 1975 oggi vi facciamo vedere quelle che sono le tappe quelle che sono le esperienze che possono vivere i nostri clienti e che vogliamo far vivere ai nostri clienti all'interno del nostro nuovo showroom la realizzazione del nuovo showroom rispetto a quella che è la nuova filosofia introdotta dall'ex europa dell'omotenashi l'omotenashi è una cultura giapponese che abbiamo avuto la fortuna di poter vivere direttamente in un'esperienza qualche anno fa in giappone questa cultura brevissimamente che significato ha è l'interpretazione di far sentire il cliente come se fosse a casa propria quindi trattarlo come un vero ospite ed è per quello che il nostro nuovo showroom è diviso in varie aree iniziamo dalla parte d'ingresso dove c'è la figura della conserge che accoglie il cliente e lo fa sentire a proprio agio con una certa elasticità e flessibilità nel propogli da un semplice caffè farlo accomodare nella nostra lounge in attesa del consulente vendite e permettergli anche grazie ad un ad un video di personalizzare e giocare configurando la propria autovettura il potenziale cliente ha la possibilità di poter personalizzare la propria autovettura grazie al car configurator disponibile oggi in modo molto moderno grazie a questo the wall personalizzabile dove ha la possibilità di verificare l'autovettura scegliere il modello scegliere la motorizzazione verificare i vari pacchetti di optional disponibili con naturalmente i relativi prezzi con molta trasparenza e nello stesso tempo anche per coloro che sono i più multimediali personalizzando da casa tramite i loro ipad o pc l'autovettura di interesse hanno la possibilità col qr code di rivederla direttamente presso lo schermo in questa sala più riservata più isolata cerchiamo di mettere a proprio agio il potenziale cliente nel permettergli di poter scegliere quella che è la personalizzazione della sua autovettura questa zona di touch and fill permette di poter personalizzare e toccare con mano quelli che sono i materiali quale vengono realizzate le nuove lexus sia in termini interni nei vari nelle varie colorazioni anche se questo un abbinamento molto forte e poterlo configurare anche con quelle che sono le dotazioni degli accessori perché la vettura si presta a personalizzazioni anche di accessori aftermarket in base alle esigenze dei potenziali clienti durante la fase di progettazione dei nuovi standard europei lexus ha deciso e abbiamo concordato di dare molta importanza a quello che è il momento più emozionale di quello che è il ciclo di acquisto dell'autovettura che è la consegna infatti è stata realizzata sono state per la precisione realizzate due sale dedicate alla consegna autovettura una prima sala dove il consulente di vendita permette di spiegare grazie all'aiuto del supporto informatico quella che è la configurazione dell'autovettura allora facciamo una consegna personalizzata in funzione di quelle che sono le necessità del nostro cliente in una sala molto accogliente confortevole dove ci permettiamo anche di omaggiare il nostro cliente con con un gift e poi creiamo questo effetto wow un effetto wow grazie a un gioco di luci che permette di passare da un ambiente illuminato a un ambiente dove il cliente non vede la propria autovettura e la scopre insieme a noi concludendo questo bellissimo video vi rinnovo l'invito a vivere la cultura e la filosofia giapponese della motenashi come appena raccontato presso il nostro nuovo showroom lexus bergamo in casa sarco a cura vi aspettiamo